Stasari sta avviando e già avviato da tempo Appuntamento nella sede della Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza Regionale per il Via Libera al progetto che ha l'obiettivo di migliorare i percorsi di tutela e recupero dei minori facilitando il loro reinserimento sociale Stamane gli assessori regionali degli affari generali Maria Elena Mozzo e della Sanità Armando Bartolazzi in collegamento da remoto hanno presentato il protocollo d'intesa per l'utilizzo del sistema informativo per la gestione del minore in comunità che verrà siglato tra la Regione Sardegna, le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di Cagliari e Sassari le aziende sanitarie, gli operatori del settore con il prezioso contributo delle associazioni di rappresentanza degli enti locali È un comparto delicatissimo e il minore va tutelato e quindi tanti sono gli attori, comprese naturalmente le ASL per cui il collega Armando Bartolazzi in sinergia con noi ha coadiuvato e concertato questo progetto molto importante quindi mettiamo insieme le procure, i tribunali dei minori, le ASL i comuni per quanto riguarda gli operatori sociali e naturalmente noi che fungiamo da tramite per il monitoraggio costante e l'implementazione del sistema informativo Grazie a tutti Grazie a tutti